Le operazioni di polizia hanno dimostrato sostanzialmente che a fronte di dichiarazioni acclarate di pagamento di pizzo le persone non denunciano, anzi addirittura negono di avere pagato. Così il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizi, ha introdotto il vertice che ha visto il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-ussura, Maria Grazia Nicolò, confrontarsi con la procura antimafia etnea, le forze dell'ordine e le associazioni di contrasto al fenomeno criminoso estorsivo e usuraio. Emerso che a fronte delle operazioni sono poche le denunce che vengono prodotte da parte di coloro che subiscono fenomeni estorsivi e usurai. Noi siamo qui per affermare la presenza dello Stato in tutte le sue articolazioni, quindi lo Stato c'è, vediamo un attimino di capire il resto. Dei 15 milioni di euro sul territorio nazionale a favore delle vittime del racket e dell'usura, 5 sono stati erogati solo in Sicilia. Le associazioni di categoria chiedono allo Stato maggiori tutele per permettere a chi paga il pizzo di denunciare senza timore. È una giustizia più veloce che dia una risposta adeguata a chi ha il coraggio di denunciare. La necessaria pubblicizzazione degli strumenti legislativi che lo Stato mette a disposizione è anche una coordinata azione sinergica da parte di tutti gli attori per contrastare l'estorsione e l'usura nel territorio di Catania.